Parla fan azzurri benvenuti sul canale notizie di Napoli, andiamo alle ultime dall'azzurra. Ma prima se siete nuovi qui già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. L'Atalanta si gode Erasmus Ogelund. Il centravanti danese, 20 anni appena compiuti, pagato 17, ora già vale 40 milioni e piace a diversi club italiani. Lo scrive nell'ampio focus l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Tutti considerano Ogelund il sostituto ideale per far fronte ad un'eventuale cessione, Ozyman, Vlaovic, Lukaku, o per rinforzare il reparto d'attacco. Ma oggi è più facile supporre, al netto di offerte irrinunciabili, che l'Atalanta voglia goderselo ancora un po'. Pur senza citare il Napoli, dunque, il quotidiano fa sapere che il club di De Laurentiis lo ha messo nel mirino qualora partisse Ozyman. Ehi fan di Azzurra, lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.